In Serie C il Pescara continua la preparazione in vista della trasferta di Lucca in programma domenica prossima 22 ottobre alle ore 18.30. La seduta mattutina hanno preso parte sia Tunior che Staver, sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. In questo momento sono tutti a disposizione di Zeban contro la Lucchese, previsto il rientro di Moruzzi in difesa. Squizzato e Tuniov centrocampo in attacco potrebbe giocare dal primo minuto Tommasini ma non è da escludere il tridente Merola a Cornero Cangiano. In questo caso il classe 2004 del Genoa verrebbe utilizzato da finto 9. Domani doppia seduta al Mastrangelo di Montesilvano. Fronte Lucchese, quasi certa l'assenza per infortunio di Sabbione. La Lucchese 12 punti in classifica, ha disputato 7 gare, una da recuperare con la Juventus-Under 23-9. I gol fatti, 5 le reti subite come la Carrarese, 2 in più della capolista Torres che con 3 gol vanta la difesa meno perforata del gilone. Sistema di gioco 4-2-3-1, ancora presto ma la Lucchese potrebbe schierarsi così. Chiorre tre pali in difesa Alagna, Tiritiello, Benassai e De Maria. Centrocampo il tandem Gucker, Cangianiello o Tumbarello. Esterni guadagni fedato tra le linee, uno tra Rizzo Pinna e Russo, alle spalle di Magnaghi. Il tecnico è il 47enne Giorgio Gorgone che ha indossato la maglia del Pescara in bida a gennaio e giugno 2004. 16 presenze, un gol. È stato vice per 9 anni di Roberto Stellone. Dal 2021 al 2023 ha allenato la primavera del Frosinone. Lucchese Pescara sarà diretta da sfira della sezione di Pordenone. Nelle immagini l'ultima vittoria del Pescara a Lucca, al Porta Elisa, Serie B. 15 marzo 1998, primo gol di Daniele Moretti ispirato da una super giocata. L'avete vista di Ivan Tisci, migliore in campo, attuale allenatore del Cerignola. Daniele Moretti per Daniele Moretti. Il primo gol in quella stagione, stagione 97-98, il Pescara di Buffoni che prevalse sulla lucchese di De Canio. Questo è il secondo gol di Cammarata, il primo di quel pomeriggio per il 9 Biancazzurro, ispirato, servito da Giovanni Pisano. E qui la pennellata di Tisci per il colpo di testa ancora di Fabrizio Cammarata. Lucchese Pescara, 0-3, l'ultima vittoria al Porta Elisa di Lucca. 15 marzo 1998.